Sottosegretari Lucani, Liuzzi del Movimento 5 Stelle, Almise e Margiotta del PD alle infrastrutture. Tempa Rossa prosegue la trattativa in Regione. Il Comune di Potenza è stato commissariato e esautorata l'amministrazione. Data Contact e Club CMMC incontro a Matera sulla cultura dell'ascolto. Nella Città dei Sassi una mostra della Polizia Scientifica. Sport Atletica Matera il Menea Day. E' un'apertura del nostro telegiornale con la politica. Sbloccate le nomine dei viceministri e sottosegretari di Stato. Due i Lucani nel sottogoverno di Conte. L'onorevole Liuzzi dei 5 Stelle, Almise e il senatore Margiotta del PD alle infrastrutture. Lunedì il giuramento. Intanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte adesso ha lavoro sul piano straordinario europeo per il Sud. Vediamo il servizio di Donato Mola. Quando il giuramento? Grazie. Lunedì. Lunedì mattina. In mattinata il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare la lista con i nomi dei sottosegretari. Era questo infatti l'unico punto all'ordine del giorno dopo l'ultimatum del Premier ai due capi delegazione. Si completa dunque la squadra di governo con i 42 sottosegretari e i viceministri. 21 sono del Movimento 5 Stelle, 18 quelli del Partito Democratico, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie. Tra i viceministri 6 sono dei 5 Stelle e 4 del PD. Per quanto riguarda invece i sottosegretari, la Puglia è chiamata ad un lavoro e ad avere un ruolo di grande responsabilità al Ministero dell'Agricoltura, dal momento che alla titolare brindisina Teresa Bellanova va ad aggiungersi il polignanese del Movimento 5 Stelle Giuseppe Labbate. Tecnicamente pugliese è anche il neo sottosegretario agli esteri, Ivan Scaffarotto del PD, che lungo tempo ha vissuto a Foggia. In Basilicata confermati i nomi dei papabili alla vigilia, con la deputata Mirella Liuzzi, dei 5 Stelle, che andrà al Ministero dello Sviluppo Economico, e il senatore Dem, Salvatore Margiotta, che invece sarà sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Partita vinta da Conte, il capo del governo infatti a margine dei colloqui coi vertici delle istituzioni europee e nei giorni scorsi aveva sollecitato i capi delle due delegazioni, Di Maio e Franceschini, a farsi trovare pronti al suo ritorno con la lista dei nomi. Per questo si è lavorato tutta la notte e non andare così alla prossima settimana. A Bruxelles Conte ha affrontato i temi più significativi dell'agenda riformatrice alla quale si dovrà subito iniziare a lavorare, a partire proprio dall'avvio di un piano strutturale di rilancio del mezzogiorno. Le priorità di Conte sono una banca pubblica per gli investimenti, a supporto delle imprese e tutti quegli strumenti di intervento, come i contratti istituzionali di sviluppo, le zesse, i contratti di rete, idonei a perseguire obiettivi mirati e finanziariamente sostenibili. E poi ancora l'aumento di fondi dedicati alle infrastrutture di tutto il Paese, con una quota destinata proprio al Sud, maggiore rispetto al passato, è realmente calibrata sulla popolazione e i suoi bisogni. E qui il capo del governo ha fatto un esempio tra i tanti. Non è tollerabile che Matera, la capitale europea della cultura, rimanga isolata dal resto del continente a causa di una rete ferroviaria inadeguata. E ora con il tema petrolio stiamo combattendo sulle compensazioni ambientali per una politica di sviluppo e occupazione per i lucani. Così il governatore Vito Bardi, a margine del nuovo tavolo in regione Sud Tempa Rossa, presenti i vertici total, sindacati e sindaci dell'area oggetto della concessione. Vediamo insieme il servizio di Nico Basile. Abbiamo riaffrontato l'argomento, abbiamo parlato all'accordo del 2006 e abbiamo fatto delle proposte che riguardano sia l'aspetto sviluppo-occupazione e sia soprattutto quelle che sono le vere e proprie compensazioni ambientali. Quando ci sono delle trattative, le trattative richiedono anche riflessioni da parte di entrambe le parti. La prossima riunione ritengo la faremo la prossima settimana o quella successiva perché abbiamo necessità di chiudere in tempi brevi. Credo che anche i sindaci abbiano avuto delle interlocuzioni. Io mi vedrò con i sindaci la prossima settimana, quindi avrò modo di approfondire. Ci sono dei tavoli differenti, voglio dire i sindaci con i sindacati hanno fatto un tavolo tecnico a cui noi non abbiamo partecipato come giunta. Questo è un tavolo specifico, mi vedrò anche con i sindaci, con gli assessori. Hanno chiesto di parlare con me i tre del circontario più stretto con cui mi vedrò la prossima settimana. Noi stiamo parlando dei prossimi 25 anni, quindi questa è una cosa importante che ci impegna e non può assolutamente avere una tempistica che non consenta poi di fare le cose bene. Con il presidente Vito Bardi ho condiviso la convocazione di un tavolo Eni, Arpa, Bispra, provincia di Potenza, comune di Vigiano e Grumento Nova e il Dipartimento Ambiente a seguito del perdurare delle fiammate al centro oli di Vigiano. Si terrà infatti lunedì prossimo, 16 settembre, alle ore 9 all'assessorato all'ambiente. L'ha annunciato attraverso l'ufficio stampa l'assessore Lucano all'ambiente Gianni Rosa, subito dopo aver appreso della fiammata del centro oli di Vigiano, già lunedì scorso a proseguito Rosa avevo formalmente chiesto chiarimenti ad Arpa Bedeni e bene chiarire una volta per tutte all'esito dell'incontro. Insieme al presidente Bardi valuteremo quali provvedimenti adottare. L'aggiunta regionale della Basilicata si è riunita nel pomeriggio di ieri a Matera nella sede della regione in via Annibale di Francia, confermando, secondo quanto ressonato dall'ufficio stampa, l'impegno del presidente Vito Bardi, assunto all'inizio legislatura, di avviare una serie di riunioni itineranti del governo regionale, tutto quanto con l'obiettivo di unire il territorio mettendo in contatto la massima istituzione regionale con i cittadini e le province di Potenza e Matera. Tra i diversi punti all'ordine del giorno sono stati approvati in particolare il disegno di legge per la riorganizzazione degli uffici della Giunta della regione Basilicata, l'avviso pubblico per la nomina del direttore generale del CROB di Rio Nero, il bilancio di previsione dell'Arlab, il bilancio consultivo 2018 dell'Ater di Matera, il bando pubblico denominato aiuti all'avviamento dell'attività imprenditoriale per attività ex agricole nelle zone rurali a valere sul PSR 2014-2020. Cambiamo ancora l'argomento, comune di Potenza commissariato a causa di un contenzioso nel rione Macchiaggiocoli, replica dell'assessore al bilancio Giuzio, nessuna ripercussione. È stata commissariata l'amministrazione comunale di Potenza. Da giovedì pomeriggio, infatti, un viceperfetto nominato da Annunziato Verde si è insediato come commissaria d'acta dopo gli effetti della sentenza numero 3106 del Consiglio di Stato che ha imposto il pagamento di 600 mila euro entro il 13 agosto scorso a causa dell'occupazione illegittima di un terreno di Macchiaggiocoli, Rione, dove nel post terremoto del 1980 vennero costruite due cooperative. Nel maggio scorso il Consiglio di Stato ha risolto il contenzioso e stabilito come l'amministrazione avrebbe potuto acquisire quei terreni oppure abbattere le palazzine nel frattempo a sorte, ma a discapito e rivalendosi sulle 60 famiglie che ci abitano. Il Comune, già condannato nel 2018 per situazioni simili, non ha ottemperato a quanto previsto, pur potendo contare sulla disponibilità finanziaria grazie al superamento del dissesto. La procedura non avrà nessun tipo di ripercussione se gli equilibri di bilancio, ha chiarito l'assessore in materia Giuseppe Giuzio, la debitoria, oggetto di acquisizione salante, e in parte in carico all'organismo straordinario di liquidazione come somme già stanziate e per il restante 50% rimarrà a carico del Comune e sarà pagato previ riconoscimento di debito e successiva variazione di bilancio. In soldoni, durante i 90 giorni seguiti alla sentenza, oltre all'intervento dell'organismo chiamato a ripanare la massa debitoria pregressa, l'ente di Piazza Matteotti non è riuscito ad avere una stima sul valore economico delle cooperative necessaria alla variazione di bilancio. Era stata chiesa una proroga dei termini al Consiglio di Stato, ma non c'è stata risposta. Intanto si procederà con le operazioni che consentiranno di emettere il decreto, obiettivo mettere presto fine al commissariamento. Adesso con il tema lavoro salta l'incontro del 16 settembre al Mise per la Ferro Sud. Lo fanno sapere i sindacati di categoria, l'azienda chiede l'ennesimo rinvio, precisano il 20 settembre il commissario governativo del gruppo Mancini. L'amministrazione controllata sembra intenzionata a chiedere la nomina di un custode giudiziario accogliendo le sollecitazioni di Fim, Fiume e Wilm. Questo di fatto toglierebbe al gruppo Malena la governance della Ferro Sud, aprirebbe scenari inediti che ben concertati con la Regione, il Governo potrebbero avviare un interesse di colossi industriali meridionali del settore ferroviario e logistico. Aggiornata quindi a 1 ottobre invece l'udienza in corte d'appello di potenza per un eventuale ritorno in concordato preventivo della Ferro Sud, ricorso promosso dallo stesso gruppo Malena. Cambiamo ancora l'argomento, raccontare la Basilicata in Italia e nel mondo, ieri un incontro dell'Agenzia ANSA a Matera. L'Agenzia ANSA nella città dei Sassi con un incontro nazionale sul tema raccontare l'eccellenza, l'informazione ANSA per diffondere il meglio della Basilicata in Italia e nel mondo. Il convegno coordinato dal responsabile della sede di potenza dell'ANSA, Mario Restaino, è stato introdotto dall'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, il quale ha ricordato che quella di Matera è la quattordicesima tappa del Giro d'Italia che l'Agenzia sta facendo per raccontare le eccellenze italiane e per testimoniare la crescita del paese. Oggi siamo onorati di essere qua perché noi stiamo girando l'Italia, siamo alla quattordicesima tappa di questo giro in cui raccontiamo l'eccellenza di questo paese e oggi siamo nell'eccellenza assoluta. Il successo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è un esempio di un Sud che non si arrende, così invece è il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, partecipando all'incontro. Si parla dell'eccellenza dell'informazione e l'eccellenza dell'informazione fatta da un grande organo di informazione quale l'ANSA non poteva avvenire in una città che è la capitale della cultura. Che sappiamo che cultura e informazione si sposano fra di loro. In questo contesto, soprattutto in una città come Matera, è importante che l'informazione sia un'informazione di eccellenza. Data Contact, la CMMC per un incontro, quest'oggi a Matera, sulla cultura dell'ascolto. Vediamo insieme. La cultura dell'ascolto come l'innovazione digitale spinge a ripensare alle attività di relazione e esperienza cliente-cittadino e al loro valore. A Matera l'evento unico organizzato dal club CMMC è Data Contact, con l'obiettivo di cogliere l'occasione del tema cultura, declinandola nell'ambito professionale di appartenenza in un anno determinante con Matera Capitale Europea della Cultura. Il concetto dell'ascolto è una cosa molto complessa, che mette in gioco l'essere umano nella relazione e l'empatia che ha con il suo interlocutore. E' un gioco comunque già di per sé una bella sfida. Tutto diventa più difficile oggi quando a livello di consumatori, di cittadini, eccetera, abbiamo sollecitazioni molto diverse. Competizione da un lato, competizione di consenso dall'altro, quindi cosa succede? Che la tecnologia ci può aiutare. Comunicazione, cultura del servizio e soprattutto capacità di ascolto nell'era della digitalizzazione, questi temi affrontati nel corso di alcuni panel di approfondimento, cui hanno preso parte esperti rappresentanti della Fondazione Matera Basilicata 2019, del Politecnico di Bari, di Enel, Acquedotto Pugliese, Tim Madecco, del gruppo Activa e Live Person. L'innovazione ha dato un'ulteriore spinta, una continua novità anche nel ripensare i modelli di relazione con i clienti. E quindi il club CMMC e Data Contact come supporto operativo nella città, ma anche con l'orgoglio di aver avuto sempre, accanto al suo brand, dal 2001, quando l'azienda è nata, l'indicazione, la cultura dell'ascolto al servizio della relazione. Perché soltanto con un'adeguata capacità, cultura, spinta di formazione di tutti i professionisti che si occupano di questo servizio nella nostra azienda, come in tutte le altre aziende che si occupano di BPO, si può realmente realizzare una customer experience eccellente. Con la nostra pagina culturale siamo a Matera, presso l'ex ospedale San Rocco, una mostra dedicata alla polizia scientifica. La polizia di Stato racconta un pezzo d'Italia, la sua storia e l'evoluzione nel tempo, altrettanto ha fatto e continua a fare la sezione scientifica della polizia di Stato, la quale si racconta all'interno dell'ex ospedale San Rocco a Matera, con una mostra aperta al pubblico dal 13 al 17 settembre, per diffondere la conoscenza delle peculiari attività svolte dalla polizia, con gli strumenti utilizzati durante le indagini sui luoghi del delitto e le tecnologie che nel tempo hanno accompagnato un corpo che tanto affascina anche il mondo giovanile. Frammenti di storia all'interno dell'ex ospedale San Rocco, dottore, che cosa racconta questa mostra per voi? La questura di Matera non poteva privarsi di questa mostra itinerante della Polizia Scientifica, il Gabinetto Nazionale di Polizia Scientifica, e racconta la storia d'Italia attraverso queste immagini, questi scatti realizzati dalla Polizia Scientifica sin dall'inizio del secolo scorso. Quindi ringraziamo il Dipartimento, il Signor Capo della Polizia, che ha voluto regalare a questa città, Capitale Europea della Cultura, questa mostra riservata originariamente soltanto ai grandi capoluoghi. Oggi che momento sta vivendo la Polizia Scientifica in Italia? Un grande momento, un momento di affermazione, però nello stesso tempo di grande evoluzione dal punto di vista tecnologico, perché ci siamo resi conto di quanto oggi, anche dal punto di vista dell'applicazione, dello svolgimento delle attività investigativi, delle applicazioni dell'investigatore alle realtà che affronta nel corso delle indagini, sia determinante, sia importante il momento tecnico, il momento della Polizia Scientifica, dell'indagine tecnico-scientifica. Restiamo sempre a Matera, presso l'hangar di Cava Paradiso, il progetto Tama Atlante del Gesto. Vediamo. Si chiama Tama Atlante del Gesto, una riflessione del grande coreografo e danzatore Virgilio Sieni, ideato per la città di Matera, a partire dallo studio e dall'esplorazione di materiali provenienti dagli archivi della Basilicata. In occasione dell'inaugurazione di giovedì 12 settembre, la mostra è stata accompagnata da danze domestiche e musiche eseguite dal vivo da Roberto Cecchetto. Danze create con alcuni cittadini incontrati precedentemente nei loro luoghi privati da Virgilio Sieni e la sua equip, che ne hanno raccolto i gesti e gli oggetti per trasformarli in installazioni coreografiche. Il progetto Tama Atlante del Gesto, 5 esercizi, si sviluppa avendo come proiezione un'idea di archivio, di archivio in divenire, esattamente come il corpo riformula e sviluppa i movimenti. Quindi abbiamo ricercato in tantissimi archivi della Basilicata, abbiamo rintracciato una collezione di immagini incredibili, attraverso questi sono nati, come potrei dire, quasi degli esercizi fisici. I cittadini hanno praticato questi gesti che si potrebbe dire perduti, ma che comunque ancora abitiamo. E quindi da questa idea, dall'idea del gesto fuori, il gesto dentro, il corpo che si abbassa, il corpo che si sdraia, il corpo che salta, abbiamo ricomposto un po' tutto quello che è la dimensione quasi emozionale dell'esistente. Quindi la mostra si sviluppa su questi livelli, un livello proprio iconografico, un livello soprattutto legato a un viaggio che ho fatto nelle abitazioni di alcuni abitanti, a ricostruire con i loro oggetti dei movimenti e dei corpi umani, e un livello dato dalle pratiche. La mostra si compone appunto ed è articolata da un continuum di pratiche rivolte ai cittadini, a danzatori, madri e figli, non vedenti, eccetera. Il programma delle azioni coreografiche continua il 13 settembre con le danze contro il balocchio, il 15 settembre con Agora Madri e Figli, danze in duetto realizzate da coppie di madri e figli, e il 19 e 22 settembre con le danze di frontiera su gesti scomparsi, interpretati da cittadini e nate da un processo di immersione nella natura del gesto. E sono quattro le ditte che domani, sabato 14 settembre, nella contrada San Luca di Branca di Potenza, parteciperanno alla 31esima edizione del Festival Nazionale di Arte Pirotecnica Fuochi sul Basento. La manifestazione, lo ricordiamo, era stata programmata per il 31 di agosto, come era stata poi posticipata in due settimane in segno di lutto per la morte, sul lavoro di due operai potentini. Il festival, che è sottolineato in una nota, richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia, si inserisce nell'ambito delle celebrazioni, in onore della Madonna delle Grazie, Santa Patrona del Borgo. Il campo scuola di Macchia Romana Potenza è stato intitolato alla memoria dell'ex consigliere e assessore comune allo sport, Gigi Chiariaco, morto nel 2008, circa due anni dopo, un incidente stradale in cui rimase gravemente ferito. La cerimonia di intitolazione, a cui tra gli altri ha partecipato anche la figlia Flora, si è tenuta ieri sera alla presenza dell'amministrazione comunale. Chiariaco era una persona che, ha detto il sindaco Mario Guarente, ha saputo coniugare le proprie capacità sportive con quelle di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica, svolgendo il proprio ruolo con dedizione e passione, caratteristiche che metteva in campo in entrambe le esperienze. A lui e ai suoi familiari la gratitudine della nostra comunità, che anche grazie a quanto ebbe a compiere durante il suo mandato, oggi può ritenere la pratica sportiva importante per la crescita sana, non solo fisica, dei propri concittadini. Adesso con la nostra pagina sportiva a Matera, vi presentiamo e vi raccontiamo il Menea Day. Per un giorno Matera è stata anche capitale dell'atletica leggera. La città dei Sassi ha vissuto ieri il Menea Day, una giornata tutta in ricordo del grande velocista di Barletta, nel quarantennale dallo storico primato del mondo, fissato in 1972 all'Università di Città del Messico il 12 settembre del 1979, e rimasto in piedi per oltre 17 anni. Nutrito il calendario di eventi, iniziati con il Consiglio federale della FIDAL, svoltosi in mattinata nella sala consigliare della provincia di Matera, diretto dal presidente Alfio Giomi. Consiglio che ha ufficializzato la squadra dei 65 Arteti Azzurri che parteciperanno ai prossimi campionati mondiali di Doha. La FIDAL nel pomeriggio ha consegnato quindi al sindaco Raffaello De Ruggeri la bandiera azzura di città della Corsa e del Cammino, per l'impegno mostrato a favore dei podisti. In una piazza Vittorio Veneto colorata da ragazzi festosi, che si sono esibiti in staffette sui 60 metri, è stato allestito anche uno stand di poste italiane, che per l'occasione ha realizzato un francobollo e un annullo speciale. Al campo scuola sono stati i senior a gareggiare nei 200 metri, mentre il programma è stato completato con l'inaugurazione della Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata Pietro Mennea, alla presenza della signora Manuela Olivieri Mennea e con il taglio del nastro del presidente della provincia di Matera, Piero Marrese. È un'emozione essere qui, poi appunto come oggi ho detto varie volte, è un'emozione perché poi città europea della cultura, Pietro era veramente un uomo di cultura, non tutti lo sanno con le sue quattro lauree, e soprattutto mi è piaciuto moltissimo quando mi hanno proposto il fatto che gli dedicassero una sezione della biblioteca comunque intitolata a lui, lui che era veramente un amante dei libri, lui è proprio il libro come oggetto, tant'è che abbiamo dovuto a un certo punto comprare un appartamento dove sono solo libri, perché i libri pesano e rischiavamo di sprofondare, quindi insomma veramente una gioia. Lo sport è anche cultura, cultura fisica, ma anche educazione, capacità di sacrifici, impegno, quindi lo sport è coerente con lo spirito di questa città, che attraverso il sacrificio, la lievitazione, il coraggio, è riuscito ad arrivare al capitale europeo della cultura. Quindi è un mondo che si riconcilia in maniera coerente con la città e vive l'eccitazione del ricordo di un grande meridionale che è stato Pietro Mennea. Un momento in cui Matera vive un'esplosione culturale è il momento in cui poter dedicare anche uno spazio specifico alla cultura sportiva. Questo è il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare, che servirà a fare a sì che non si concluderà solo nel 2019, ma l'obiettivo è quello di iniziare anche con questo modo di fare cultura affinché si possano creare opportunità per il futuro. Sempre con lo sport, il basket campionato di Serie B, l'Olimpia Basket Matera è pronta per la prima giornata. Vediamo. Prosegue la preparazione dell'Olimpia Basket Matera, che fisse il mirino sulla prima giornata di campionato di Serie B di Palacanestro, in programma il prossimo 29 settembre. La squadra di coach Agostino Auriglio, dopo le prime tre settimane di lavoro a Montescaglioso, ha cominciato ad allenarsi a Matera al Palalanera, dove ha sostenuto un test amichevole con il Corato, squadra che parteciperà al prossimo torneo di Serie B e prossima rivale dei Biancazzurri. La gara è stata vinta dai padroni di casa con il punteggio di 66-62, ma nel complesso si è trattato di un allenamento importante in cui i materani hanno risposto molto bene nei primi due quarti. Un po' di tensione nella seconda parte di gara ha contribuito ad abbassare le percentuali al tiro, ma ad ogni modo crescono condizione fisica ed agonismo. Sabato prossimo l'Olimpia Matera sarà impegnata in una nuova gara amichevole sul campo del Sant'Antimo e lunedì 16 settembre la squadra di coach Auriglio a completo con il presidente Sassone sarà ricevuta alle 11 nel Palazzo del Governo a Matera dal prefetto Demetrio Martino. Purtroppo quest'anno abbiamo il problema della capienza del palazzetto di Lanera. Questo palazzetto, questo impianto sportivo purtroppo non potrà contenere per motivi connessi ad agibilità più di 420-430 posti. Stiamo andando avanti con la campagna abbonamenti e devo dire che siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto quasi il 70% della capienza durante l'estate. Sono tre settimane che lavoriamo stiamo tenendo un ritmo abbastanza alto con gli allenamenti, con gli amichevoli perché comunque stiamo giocando due amichevoli a settimana anche per trovare questa alchimia di questo gruppo nuovo questi amichevoli stanno dando ottimi risultati mancano due settimane quasi all'inizio del campionato avremo anche altri amichevoli e ci sarà modo di migliorare le cose che fino adesso non stanno andando. Io credo che la squadra la riusciamo a capire pian piano con la stagione regolare in pieno svolgimento con le partite vere e naturalmente trovando anche un po' di condizione non solo fisica ma anche tecnica. Ed era questa l'ultima notizia che abbiamo visto insieme per questa edizione del nostro telegiornale e subito dopo di noi vi lasciamo con un messaggio promozionale. Grazie per averci seguito e buona giornata. Da 70 anni il centro edile Quartarella si occupa di arredare casa un'attività che nel corso del tempo si è evoluta con uno sguardo sempre attento al futuro, alla ricerca all'innovazione e allo studio di materiali sostenibili. Le origini dell'azienda infatti risalgono al 1949 quando Nicola Quartarella, affermato mastro muratore intuisce di dover percorrere nuove strade nel settore dell'edilizia. E proprio la capacità visionaria della famiglia Quartarella ha permesso a questa realtà del Mezzogiorno d'Italia di crescere sempre più arrivando a compiere 70 anni. I 70 anni che iniziano con la storia di mio nonno che ha tracciato un po' la linea che adesso noi stiamo portando avanti noi appunto della terza generazione siamo naturalmente adesso abbastanza carichi per affrontare il futuro sapendo insomma di dover raccogliere le sfide che il mercato ci pone giorno per giorno. È una serata piena di emozioni e di grande soddisfazione per tutta la gente veramente clienti, affezionati, amici ex dipendenti collaboratori che sono venuti a trovarci. Un compleanno festeggiato in grande stile con oltre mille ospiti nello showroom inaugurato nel 2010 nel quale per l'occasione sono stati riscoperti alcuni oggetti d'arredamento vintage. Qui alle mie spalle potete vedere appunto una parete dedicata a questi oggetti storici dalla cassetta a scarico a zaino che veramente può diventare un oggetto di design vero e proprio al portascopino in oro ai portasapone ad incasso in ceramica smaltati come vedete la ceramica ha veramente tantissimi anni dai 20-30 anni ma è perfettamente lucida e impeccabile. Noi pensiamo che la differenza la faccia il servizio infatti sposiamo tutte quelle che sono le politiche legate alla consulenza, alla progettazione al servizio post vendita qui ogni cliente che entra in sala mostra verrà sempre accolto con un sorriso da parte di uno del nostro staff. È il prodotto futuro? Sì ce ne so, non me li posso anticipare. Sicuramente uno dei primi è quello di migliorare sempre e accelerare il servizio al cliente ma da tutti i punti di vista cioè dal post vendita alla celerità delle consegne quindi questo sicuramente è uno dei primi obiettivi. Poi gli altri non ve li posso svelare. iscriviti al nostro canale